Guarda, non c'è niente a queste torri. Tutti ci hanno abbandonato, tutto abbandonato, tutto. Qua la gente ci si mette ancora di più. Se tu nasci e cresci qui, ci deve essere un'alternativa alla strada. L'alternativa del possibile non mi piace, o è, o non è, ti salivare già le cose. I bambini, i giochi, scappano tutti. Fa sì che in qualche modo le persone non siano propense anche a vedere il mondo in un modo diverso. La spazialità del luogo. Io non c'ho la cascetta. Con meno occupazione. E' particolarmente trascurato se devo essere un resto. È stata abbandonata negli anni. È una bomba. E se tu la facciamidi su quattro lati. Sappiamo che ci sono. E' quasi indipendente. Quello è dove hanno fatto le sbombie e di ditaggio. E' lo sindicai io. Eh, si è finito. Facciamo io, perché ognuno poi si fa il proprio spazio. Per cui ci stanno tante modalità di grigio. Di teatro. Per cui è impossibile anche distingue tra bianco e nero. Però dovrebbe anche migliorare. Non ce l'ha anche intercettarli. Io ho già detto. Serve un pubblico. Riccola, anche delle istituzioni. Non sono sicuramente la prevenzione. Eh, la telepolizia. Più organici, più assistenti sociali. La cosa che si può è quella. Troppa monnezza, troppa. E lavorare quindi sui giovani, ma anche sulle famiglie. Anzi, tutti gli spazi. E quindi anche sullo spazio. I ragazzi dove c'è una palestra a tutti coloro. C'è una palestra. La possibilità di apertura. E' una possibilità inclusiva. Io ho 10-60 anni. Voglio lavorare in questo scenario. Perché sembra che l'Europa funziamo noi. Ci abbiamo un po' di... Io ho fatto la scuola. Vivere. I paesi più importanti e fondatori della comunità europea. Quindi non soltanto l'Europa. C'è un po' di più adulti. La battiglia. La tiziana, con le donne. Con le donne. Il principio sette. L'Europa migliore si è legata al rapporto con il diverso. Con lo straniero. Io penso a una presenza delle persone europee. Però penso un'Europa un po' più vicina a persone comuni. Quando io penso a qualcosa di europeo penso a qualcosa di fatto bene. Che meraviglioso. Che meraviglioso. Che meraviglioso Allora Che meraviglioso Grazie a tutti.